Arrivano buone notizie per tutti i fan di Fabrizio Frizzi. Secondo quanto anticipato da TV Blog, il noto conduttore sta meglio, ha fatto il pieno di energie grazie all'affetto e alla vicinanza della moglie Carlotta e della figlia Stella ed è prontissimo a tornare in tv. Dopo l'ischemia che lo ha colpito a fine ottobre, la fase di recupero è stata vissuta lontano da occhi indiscreti ma Frizzi è sempre fatto sentire la sua presenza sui social ringraziando coloro che gli hanno rivolto un pensiero e si sono presi cura di lui, in primis l'equipe medica, poi Carlo Conti che lo ha subito sostituito al timone dell'eredità. Come si vocifera, l'amato presentatore sarebbe stato avvistato negli studi Rai del quiz show preserale di Rai 1 e sarebbe assolutamente entusiasta di ricominciare a registrare le puntate in vista delle feste natalizie. Dunque sarebbe questione di giorni e noi ce lo auguriamo vivamente prima di rivederlo di nuovo di fronte alle telecamere ed entrare nelle case di milioni di italiani con il suo buon sorriso. Pare inoltre che la prima puntata dell'eredità dopo l'ischemia dovrebbe essere condotta insieme all'amico Carlo Conti, un simbolico passaggio di testimone dopo la brutta esperienza che renderà ancora più speciale il suo ritorno.